Stiamo puntando sul combattere la dispersione scolastica e migliorare gli apprendimenti degli studenti. Sono due cose nelle quali la scuola Sarda deve migliorare molto rapidamente, lo abbiamo sempre detto. Oggi abbiamo presentato un nostro progetto su come ridurre la dispersione, su come migliorare gli apprendimenti. È un progetto finanziato in modo importante perché parliamo di circa 180 milioni di euro da mettere a correre subito dal 2015, da fine 2015 ed è articolato in varie azioni, alcune che appunto prendono direttamente il problema della dispersione, per esempio studenti che hanno problemi economici, allora ci occupiamo dei trasporti, borsi di studio, di comprare libri e tablet per mettere a loro disposizione, problemi poi sugli apprendimenti e lì c'è naturalmente molto da fare anche con gli insegnanti, dobbiamo lavorare insieme agli insegnanti per migliorare la didattica. Ci stiamo mettendo molto impegno, porteremo il progetto davanti a tutte le scuole in tutti i territori della Sardegna per raccogliere opinioni, critiche, suggerimenti e nel giro di un mese e mezzo faremo la nostra proposta definitiva. Le difficoltà che si possono incontrare a scuola e che poi portano a cattivi apprendimenti e poi ad abbandonare la scuola hanno molte origini, ci sono ragazzi che hanno problemi in famiglia, ci sono ragazzi che possono avere difficoltà con gli apprendimenti, ci possono essere dei docenti che devono migliorare la propria didattica e noi stiamo apprendendo tutte queste cose insieme. Infine c'è anche un altro aspetto, che a scuola si fanno alcune cose, magari la passione di un ragazzo può essere in altri ambiti, in altri temi e quindi noi stiamo anche ampliando le cose che si fanno a scuola. Faccio un solo esempio, nelle scuole SAR del prossimo anno si lavorerà sui algoritmi, si farà quello che si chiama il coding, programmazione di computer, non perché vogliamo far diventare tutti i programmatori di computer ma perché è un modo di incontrare una logica rigorosa che aiuta a definire i problemi, ad affrontarli, a cercare soluzioni. Una cosa che si sta facendo in tutto il mondo, vogliamo farlo anche nelle scuole della Sardegna insieme con le parti più avanzate del mondo, quindi daremo un'accelerata in quella direzione. E faremo anche altre cose, in modo che uno studente venda la scuola come una cosa viva, con insegnanti bravi, aggiornati, e uno spazio nel quale si può stare molto a lungo nella giornata e dal quale si può parlare col proprio territorio. Il progetto contro la dispersione scolastica ha l'ambizione di riportare la scuola al centro della comunità sociale, oltre che educativa, in cui è inserita. Da qui tutte le azioni che consentono alla scuola di restare aperta per un orario più ampio, da qui la possibilità di svolgere all'interno della scuola sia attività di potenziamento con l'inserimento di altri insegnanti, oltre a quelli già presenti nelle scuole, e di svolgere attività extracurriculari che riguardano sia il potenziamento, ma anche laboratori su temi come l'arte, la cultura, e quello che il territorio, la vocazione territoriale di ciascun'area suggerisce. Il concetto centrale di questo piano è quello delle pari opportunità. Pensiamo che ogni ragazzo, al di là della situazione sociale, economica, fisica e geografica, debba avere le stesse opportunità di avere a disposizione un'offerta formativa di qualità, delle strutture di qualità e dei servizi che vadano anche ad accogliere le sue difficoltà e le sue fragilità. Un passo importante perché diamo attuazione a una politica che abbiamo annunciato sin dall'inizio. La nostra intenzione è quella di programmare in modo unitario tutti quanti i fondi per rispondere alle strategie e alle sfide che ci aspettano. Abbiamo iniziato con la tematica più importante che guarda il futuro, ovvero sia l'istruzione, investire sulle persone, quindi scuole e università. E l'abbiamo fatto mettendo insieme tutti i fondi disponibili, quelli regionali, quelli nazionali, quelli europei, ma tutti i fondi europei. Complessivamente nel 2015 stiamo mettendo a correre 370 milioni, all'incirca la metà sulla scuola e l'altra metà sulla università, a fronte di risorse complessivamente disponibili nel triennio di oltre 700 milioni. Sono cifre importanti ma soprattutto è un approccio, una metodologia molto innovativa che siamo certi darà importanti risposte anche sul futuro. Stiamo anche lavorando all'interno della cabina di regia sulle altre priorità, in particolare sul lavoro e ci aspettiamo di portare a breve la delibera, su imprese e competitività e su infrastrutture. Poi andremo avanti anche con le altre.